Ed eccoci qui le 9 e 2 minuti e ci ha raggiunto nel frattempo nei nostri studi qui a San Giovanni Rotondo padre Antonio Serra che è responsabile della missione cattolica italiana in Gran Bretagna. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, padre Antonio, io vorrei partire proprio dalla missione cattolica in Gran Bretagna. Tu sei a Londra in Gran Bretagna dal 2008, ma quando nasce questa missione? Soprattutto in che cosa poi consiste questa missione cattolica in Gran Bretagna? La missione cattolica italiana in Inghilterra nasce soprattutto nel secondo dopoguerra quando un enorme flusso di italiani dovuto alla povertà, dovuto anche all'esigenza della Gran Bretagna di un riavvio economico c'era tanta bisogna di mano d'opera e decine e decine di migliaia di italiani lasciarono la propria terra per trovare fortuna altrove. Quindi queste colonie di italiani necessitavano una cura pastorale. Allora la chiesa italiana pensò di creare delle strutture, dei centri di riferimento che potessero sostenere gli italiani da un punto di vista pastorale ma in senso ampio perché c'era la religione ma c'era anche la dimensione sociale. Gli italiani partirono senza una competenza linguistica, con problemi riguardanti l'educazione dei figli, persino i viaggi, alcune missioni diventarono delle agenzie di viaggi che organizzavano i viaggi di rimpatrio per gli emigrati italiani. Quindi da allora è partita quella avventura che dura dopo tanto tempo, dopo tanti decenni, dura ancora oggi. In che modo è stato presente il popolo italiano in Inghilterra in questi anni? Volendo immaginare appunto la Gran Bretagna come noi la immaginiamo geograficamente, più o meno come sono sparsi gli italiani un po' in giro per la Gran Bretagna? Beh, è facilmente intuibile che la maggior parte degli italiani si concentri nelle aree urbane, ma principalmente nell'area di Londra, dove si stimano 200-250 mila italiani. Poi nelle grosse città, Birmingham, Manchester, Nottingham, è un grande esternamento degli italiani ed è ancora al nord dell'Inghilterra. La mia prima esperienza è stata in una cittadina vicino a Leeds, tra Leeds e Manchester, si chiama Bradford. Bradford era la città che gestiva l'industria della lana. C'erano tante manifatture della lana e molte, molte italiane, soprattutto italiane di sesso femminile, molte ragazze italiane lasciarono il sud d'Italia per prestare la loro opera nell'industria tessile, lì a Bradford. Ed è una storia molto interessante. Adesso, ovviamente, questo accade tanto tempo fa e ci sono solo dei pochi superstiti, perché le persone sono ultra-ottantenni. Esatto, tanti anni fa immagino c'era questa immigrazione, anche quella dei nostri nonni, dei miei nonni, probabilmente, che in qualche modo immigravano dall'Italia dopo il periodo della Seconda Guerra Mondiale, in cui c'erano condizioni di assoluta povertà in Italia, in qualche modo per trovare lavoro e magari sostenere le proprie famiglie lavorando all'estero. Oggi come sono organizzati professionalmente gli italiani invece che gli italiani cattolici che sono presenti in Gran Bretagna? Sì, come accennavi, ci sono due modelli di immigrazione completamente diversi. Gli anziani, la prima immigrazione, quella del Secondo Dopoguerra, era costituita da persone che partivano con una valigia di cartone che era piena di tanta determinazione, di tanta forza d'animo. Una delle cose che mi colpisce di più in questo periodo, in cui sono per questioni appunto anagrafica, sono costretto a fare molti funerali dei nostri primi connazionali, attraverso i figli rileggo la storia dei nostri primi migranti e mi rendo conto di quale forza straordinaria hanno avuto nel partire con la sola speranza, senza nessuna competenza linguistica e a volte anche professionale, ma sono riusciti comunque a costruire, a impiantarsi lì, a comprare casa e soprattutto a dare un futuro ai loro figli. Ora stiamo parlando di laureati, di professionisti. La nuova immigrazione è completamente diversa, parte con una competenza linguistica, con un senso di avventura e è chiaro che una grande professionalità che gli permette di collocarsi in un ambito lavorativo decisamente diverso. Da non dimenticare però, avrei sentito certamente parlare, chi non ne ha sentito parlare, di fuga di cervelli. Ed è un'espressione molto infelice, perché quasi sembra dimenticare un'altra fuga di persone che pure portano il cervello, ma sono persone semplici, che comunque devono combattere la loro quotidianità cercando magari dei lavori più umili. Quindi c'è una diversificazione nell'immigrazione italiana. Certo, fino a qualche anno fa, e almeno per quelli che sono stati tutti i decenni che ci hanno separato dalla Secondo Conflitto Mondiale, fino a qualche anno fa l'immigrazione era in qualche modo anche posta, ecco vediamo anche delle immagini di queste grandi partenze nei tempi proprio del Secondo Conflitto Mondiale. Dicevo, fino a qualche anno fa l'immigrazione aveva in qualche modo anche il cappello dell'Unione Europea sotto la parentesi immigrazione, quindi c'era una libertà nella circolazione, le famose quattro libertà dell'Unione Europea, circolazioni di merci, di sapere, persone, di capitali. Poi è arrivata la Brexit. Come ha influenzato la Brexit anche appunto l'immigrazione degli italiani oggi a Londra? E facevi cenno sicuramente a delle competenze diverse che hanno oggi le persone che emigrano verso il Regno Unito, sicuramente competenze linguistiche che prima non c'erano, ma ti chiedo invece la determinazione che trovi oggi in chi fa l'immigrato oggi è la stessa di prima o no? Beh, con la Brexit dal 31 dicembre del 2000 tutto è cambiato. Immaginati, come dicevi tu, una grande libertà di movimento, immaginati una grande autostrada e a un certo punto mentre la percorri trovi una barriera di cemento e non puoi più passare. E così è successo con la Brexit. Da non dimenticare che poi la Brexit e la pandemia hanno trovato una concomitanza molto molto infelice e drammatica. Basti pensare che nel primo semestre del 2021 100.000 italiani sono ritornati, sono rientrati in patria. Un po' per questioni di salute, per l'emergenza sanitaria, altri anche per mancanza di requisiti richiesti dalla Brexit. Ora emigrare in Gran Bretagna è quasi impossibile, nel senso che bisogna partire con in possesso già un'offerta di lavoro, con un salario minimo, non minimo di 26.000 sterline e una competenza linguistica certificata. Quindi oggi è quasi difficile parlare di flusso migratorio verso la Gran Bretagna. Sono proprio dei singoli richiesti da alcune grosse compagnie e gli altri si sono con l'EU Settlement Scheme, hanno il permesso di restare lì e ovviamente adesso è un'emigrazione che si stava stabilizzando col tempo. Qual è il bisogno o la necessità di fede rispetto all'emigrato italiano in Gran Bretagna? Se è cambiato rispetto a quando si è arrivato a Londra nel 2008 e com'è oggi il bisogno, la ricerca di fede da parte degli emigrati italiani in Gran Bretagna? Londra è una città di oltre 11 milioni di persone. Ho coniato uno slogan Londra ti dà tutto ma ti ruba l'anima. È una vita di fretta, è una vita veloce, è una vita che non ti consente tempo per te stesso. Quindi le missioni cattoliche italiane, le nostre missioni costituiscono un'oasi in cui è possibile fermarsi per riflettere su se stessi, sul senso della vita. Quindi non è più una distribuzione del sacro. Le missioni cattoliche italiane alle origini portavano avanti quelle che erano le tradizioni popolari dei nostri paesi, soprattutto quelli del sud. Ora i nostri giovani cercano altro. C'è una grande necessità di Dio, c'è una grande necessità di silenzio. Basti pensare che qualche settimana fa abbiamo fatto un'adorazione eucaristica alla missione e mentre io ero inginocchiato davanti al Santissimo sentivo le persone che piangevano. C'è davvero un grande bisogno del sacro e quindi ci sono, come diceva il Vangelo di ieri, c'è bisogno di operare per la Messa, c'è veramente tanto bisogno. C'è esigenza di fede anche con le nuove generazioni di emigrati. Assolutamente, sì. È un'esigenza autentica, è un'esigenza molto, molto profonda. Io vedo i giovani aumentare in chiesa, ma anche nei rapporti interpersonali, quando si esce, nel momento in cui incontrano i sacerdoti si passa subito, spontaneamente, per loro richiesta, a argomenti di tipo religioso, di tipo spirituale, di tipo sacro. a diverso livello, perché non tutti sono orientati in maniera così netta verso il Dio, il Dio cristiano, il Dio cattolico, ma certamente c'è un grande bisogno di spiritualità che va in qualche modo soddisfatto. Padre Antonio, sicuramente una piccola parentesi, non di gossip, ecco, ma di cultura più generale, fuori dall'ambito prettamente cattolico. Il 6 maggio c'è stata l'incoronazione del successore della regina Elisabetta, di re Carlo III. Dopo 500 anni c'è stata una partecipazione ufficiale, formale, anche da parte della Chiesa Cattolica, con la partecipazione alla regina di incoronazione proprio del segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. È in qualche modo un gesto forte da parte della Chiesa Cattolica, di Papa Francesco, per riavvicinarsi anche alla Chiesa di Londra? Assolutamente. Beh, si pensi che nel 2010 ci fu la visita di Papa Benedetto in Gran Bretagna e fu una visita di Stato, venne invitato ufficialmente dalla regina. E in questi anni, anche grazie a Papa Francesco, c'è un riavvicinamento straordinario, c'è la capacità di guardarsi in faccia, di dialogare, di accogliersi e di ospitare. La presenza della Chiesa Cattolica in maniera così significativa, l'incoronazione del Re Carlo III, dice anche che stiamo iniziando una nuova fase storica nelle relazioni tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Anglicana. Grazie. Allora, grazie Padre Antonio Serra per essere stato con noi, responsabile della missione cattolica italiana nel Regno Unito. Grazie davvero. E in bocca al lupo, ecco, per tutto questo percorso, questo cammino di fede a Londra a servizio di tutti gli italiani presenti nel Regno Unito. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per l'ospedalità. E noi ci fermiamo adesso solo qualche altro secondo per un blocco pubblicitario e poi torniamo ancora insieme per questa puntata di GiaSudea. Tra poco.